e buona tutti ragazzi e abbiamo fatto un nuovo video su fifa 19 in compagnia di raga non sto facendo più live però scusate per poco devo partire al mare quindi per 2 giorni più o meno devo andare al mare quindi scusate sono stati più facendo live e faccio video ho caricato un video sul canale di fortnite dove abbiamo fatto tutte le partite in arena poi mi ho allenato un'ora senza di voi in arena ragazzi siamo stati per fare cosa? una career battle cosa è una career battle? allora ci sono diversi punti il campionato vale 2 l'europa vale 3 la champions vale 3 punti l'emirates cup vale 1 punto l'emirates cup vale 1 punto l'emirates cup vale 1 punto l'europa super cup in caso barra 3 punti perché quella lì è quindi raga abbiamo scelto la squadra Everton Everton che sia equilibrata che no ha come budget 60 milioni però io avevo il 30 più e lei aveva il 15 più quindi lei è a 80 milioni e io sono 84 cambia poco quindi raga non ci dovremmo dire chi cambierà non ci dovremmo dire che non ci dovremmo mai dire che che giocatori prendiamo in poche parole non ci dovremmo mai dire mai quindi raga io so già chi prendermi io so già chi prendermi anche io allora si vediamo magari a che costa quanti è il mio 23 25 la difesa però così magari il portiere più avanti raga sicuramente non si tocca magari anche qua questa è la sinistra l'attaccante l'attaccante l'agra allora ok so già chi prendermi so già chi prendermi eh con 80 milioni è un po' dura eh no lui c'è mi andrebbe più sicuro magari lui tanto però allora eeeh vediamo ok raga adesso adesso voi sapete già capito allora io andrei qua capito raga lui facciamo seguire per sicurazione però so già più o meno quantità avrà io ci provo poi so sempre che quando vado a contattare questa squadra mi chiedo se spero che che hanno un po' mi fa di cucina mamma vediamo com'è che si scrive ahia non ce ne ho altri non ne ho altri mi rispia per un altro coppo di cibo perché è quello che volevo prendere una volta per contattare e non so come io non so come si scrive uno io non so come si scrive uno sai in che squadra gioca metti la squadra infatti raga io sto facendo raga io sto optando pure per lui ma magari per lui ecco loro quadro non so quanto costa ma mi potrebbe aiutare eccolo è lui raga vorrei andare a pagare tanto però non so perderebbe raga però ma dai ma non sanno il valore allora questo costa anche poco ok io volendo io volendo poter prendermene una raga volendo io potrei prendermi il portiere volendo però io sto cercando quelli in prescita ora vediamo scando un po' qui in prescita eh per adesso si per risparmiare un pochettino ok perché io ce ne ho più così se si arrabbiano ok hai già preso il tuo primo giocatore hai già preso il tuo primo si non è fortissimo però ce ne sono pochi in prescita rispetto a quello no non è un prescita io l'ho comprato proprio eh io no io devo io devo aspettare il risconto di meno di 20 milioni quindi cioè sono anche felice io devo anche aspettare un attimo perché devo aspettare no io non ho aspettato va non è fortissimo ma mi può migliorare dai poi l'età a fine a fine episodio ce le dobbiamo dire eh lo so eh vediamo io ho fatto un bel contratto credo ne vuole 85 io mi sto da un gruppo tantissimo raga due che magari poi mi è venuto in mente avanziamo a settimana cioè due raga eh questo qua potrebbe essere il mio primo questo qua potrebbe essere il mio primo hai trovato uno? eh io ne ho trovati tre ma perché ho solo spi tre? va bene io inizio a simulare allora lui ha capito allora allora dirà che mi andrà sicuramente però io quasi quasi andrei a comprarlo eh no perché sono indeciso tra la però la che secondo me può fare forse allora devo aspettare un bel po' di giorni per fare il mio primo colpo perché devo aspettare il riscontro perché devo aspettare il riscontro è più forte quello che ho tolto quindi lo metto e per ora la mia squadra io sto prendendo uno io sto prendendo uno per adesso sì adesso anch'io vado a mettere nella mia squadra comunque qualcosa da vendere se no allora ok mi è arrivato per ora un riscontro ok mi sono arrivati tutti i riscontri quasi tutti i riscontri che avevo chiesto allora lui è ma non spendo così tanto per una che cosa lui è raga come seconda punta farebbe proprio schifo tre giorni lui magari raga lui lo potrà prendere e ancora tre giorni non so tanto io ho fatto tre giorni tre giorni forse posso fare il mio primo corpo sai sono passati tre giorni ok vediamo io ho sconto se questo qua è ok io ho venduto un giocatore che dobbiamo ancora aspettare perché c'è il tempo ma sta andando ne è andati pochi perché comunque costa poco però fa niente lui raga magari se costa pochi potrei fare il colpo più e io devo a te quanto ti rimane quanti soldi ti rimane a te aspetta che vado a vedere 61 ah allora hai fatto sì hai fatto un acquisto ti dico il prezzo cioè se ti dico il prezzo svieni praticamente quanti ho speso ti dico quanto ho speso per il giocatore quanto 19 ma è forte è forte cioè mi potrebbe migliorare la rosa rispetto a quello che è ma io non so chi prendermi è abbastanza forte allora io mi prendo due ho il mio primo acquisto che sto facendo io ok no io invece ho venduto un giocatore e ho acquistato un altro e quello che ho venduto comunque c'è eh raga anche se magari così facendo uno scambio io gli do spoo ah tu sei scambio? eh forse perché no io l'ho portato lì perché tanto costava mi vogliono 47 mila devo pure prendere un difensore io vabbè io mi sto simulare la prima partita di campionato io ho sette calma ok ma sta calma con calma Emma ma quando mi è sceso? non ci credo ok io forse per concludere il mio colpo forse allora sai quando mi è sceso il roba del va l'ho fatto il mio primo colpo lo so se è il mio adesso vado a fare il contratto e e ci possiamo dire i tot? facciamo che ci possiamo dire i tot il tot del giocatore? il mio è un 82 è un 82 e ha 24 anni il mio 27 anni è un 80 ti dico il ruolo? eh sì dai il difensore ok che comunque non è scasso il mio ah forse ho capito no forse ho capito forse lo prendo anch'io quello che intendi te forse lo prendo anch'io forse dimmi dimmi il giocatore che hai capito o Rugani o Varzai no non è della Juve però ci sono Romagnoli Romagnoli ho chiesto anche un Juve alla Juve che è Rugani ma non sapevo quanto costava ah io non è dai te lo dico io ho 24 io sono indeciso tra due questo qua ragazzi è buono però ci sono un 80 sarebbe allora io provo io provo a fare così a dare un giocatore per un altro giocatore di spessi overall però che è una più giovane forse quindi ci guadagni erai pure allora vediamo allora eh non ci guadagno tanto però allora guarda il ruolo aiuto raga perché ha paura è meno 25 allora va bene ci sono i soldi per l'altro raga eh i soldi i soldi i soldi arrivo solo soldi soldi pam pam di brutto voglio uuuuuh raga mamma mia so per fare io so per fare il contratto del mio secondo giocatore anch'io no invece io ne ho visti due che cioè non sono neanche su un 80 ma rispetto a quello che ho in campo dell'Everton è veramente quindi ti hai preso uno in difesa io sto rinnovando un po' tutte le fasce lo sto rinnovando io senti che sfortuna tutti e due non possono va bene ma c'è nero ma c'è nero un altro che ha 17 anni però è un po' scherzino in pratica io adesso ho rinnovato le due fasce l'attacco lascio quello quindi raga forse se mi avanzano i soldi provo a fare questo colpo raga se mi avanzano i soldi io compro questo quindi raga adesso ne prendiamo due perché è buono anche se ha un po' più danni però raga può fare due ruoli e a me il terzino terzino mi serve il terzino quindi io che prendo quello il giocatore che comprerò sarà in FIFA 20 no forse allora fammi capire un attimo hai letto in serie A ma non lascio ma non lascio allora io sto andando tutti sulla serie A e comunque su altre serie A anch'io 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 io tutti su serie A anch'io tutti su serie A io tutti quelli che ho nel nel UB mercato sono tutti della serie A anch'io sono tutti quindi vediamo quanto costa non si sa vabbè viene aspetta anzi 25 milioni in difensore che ha 23 anni e la mia carriera può salire in 3 anni può salire fino al 86 quindi la qui cosa è molto buona ah ma mi conoscerò allora ok raga io faccio questo acquisto poi prendo quello e sperano per sicurezza e poi abbiamo finito io sto per finire anch'io io offro così comunque allora per quanto giocatore hai preso io sì allora sto contrattando ancora l'ultimo e per ora uno vediamo se me lo accetta ok accettata ok allora io io proverei a fare l'ultimo colpo che a 25 anni può farmi l'esterno sinistro magari tanto per sai per avere qualche panchinaro per avere qualche panchinaro di prendo un panchinaro ah qualche panchinaro questi mi accettano un cacchio allora va bene no però accetto tutte le coperte che mi fanno sono più capito se io ce l'ho un bel po' quindi lo mi do sto qua ok l'accetto e ok l'ho acquistato per me sono due colpi che comunque mi possono seguire poi vedrò come giocherà la mia squadra eh no mi chiedono troppo allora sì accetto ragazzi ho fatto così bene perché se no mi va bene vabbè allora io io ho finito tutto perché volevo prendere il panchinaro ma io ho fatto tre acquisti tutti in serie tutti e io ho 11 cioè io ho 94 allora adesso io devo fare un 99 su 1 ho 49 milioni ancora che sono così quindi io mi fermo qua cioè eh anch'io sono pronto anch'io si può dire che sono pronto e anch'io potrei farlo ma non so su chi vabbè io ho finito io ho finito vado a sistemare la rosa vado a sistemare la rosa e poi sono pronti anch'io anch'io poi se ne andiamo tutto eh ok chi è il più vecchio di voi 25 ok tanto io simulo la prima ok io sono pronto ho tutti 80 ho tutti 80 in su ho tutti in squadra ho ogni squadra tutti 80 in su tranne due difensori tranne due difensori un 83 è un 79 e uno di quei due è quello che ho comprato mentre l'altro che ho comprato ok io sono pronto anch'io andiamo a simulare io simulo aspetta che magari mi arriva qualche offerta per il campionato perché poi magari dobbiamo anche vendere qualcuno sai così guadagniamo qualche soldi qualche soldi ok mi è arrivata un'offerta vabbè per il prestito allora io simulo il mese di agosto no no non simulare niente aspettami devi simulare tutto di botta ti sto aspettando eh si aspetta perché devo sto aspettando qualche solo prespiti solo prespiti che mi arrivano e anche a me mi arrivano solo prespiti anche a me anche a me eh io devo ancora giocarla però a me mi arrivano solo prespiti ho fatto solo una ho fatto solo una ok trasferimento trasferimento per un 76 in difesa che ha 35 anni quindi se no lo vendo ora eh ma mi hanno chiesto pochissimo non mi ero accorto che mi hanno chiesto così poco io ho vado io ho già venduto uno che comunque però mi è andato veramente poco perché mi è andato solo 250 euro in più ma forse forse mi arriva un'offerta per un piazzino despero che così devo andare un attimo forse posso rinnovarmi ancora un po' devo andare a vedere un attimo quanto costa no io mi siglino le tre partite ecco brava aspetto che devo mi sto assimilando il mese di agosto tutto perché voglio vedere vediamo spero che qualcuno vuole il mio giocatore perché così posso fare colpo su quel giocatore che voleva ok sono salita quanto hai tu di allenatore eh in che senso ah l'80 devo ancora giocare ah gli 86 allora ahia ahia me l'hanno ritirata l'offerta per un giocatore ma era un prestito raga forse ok questo quadro il piscino destro eh ma un filmetto un po' ma neanche tanto ma perché non lo trovo aspettate raga che ok eh allora allora non dimmi che l'hanno venduto no eh dai l'hanno venduto eh no ok cosa cosa l'ho comprato praticamente non vuole una squadra però io non glielo magari ah siamo anche al giorno di mercato eh vabbè aspettami un attimo fidate sei avanti issimo eh aspettami offerta per il trasfermi 10 milioni per un giocatore che invece ne ho 3 milioni coleman non lo so perché devo aspettare quindi ehm questo qua shaderlin vediamo vediamo shaderlin ok non ce l'ho titolare poi ho giocatori che possono fare quel ruolo quindi quindi lo vado a vendere guadagno 10 milioni easy lo so per guadagnare 10 milioni easy invece sai io cosa faccio metto un sacco di giocatori ah non posso questo vabbè alcuni ok ok io ho guadagnato 10 milioni guadagnati o forse solo per vendere una da due che però è il più forte che ho in squadra è uno dei più forti che ho in squadra mi hanno chiesto 23 milioni ma io non glielo do lo blocco blocco proprio se io ho i soldi per fare giusto un colpettino è anch'io anch'io forse per fare quello che io voglio inizierei a io adesso voglio riesco a fare il colpo che voglio riesco a fare god ti dico che non è italiano quello che voglio comprare non è italiano no tutti quelli che ho comprato io non sono italiani non mi dico non è campionato italiano sì non è campionato è anche io io ho due italiani allora io quello che sto per comprare non è non è in serie ma è in un altro campionato ed è un buon terzino è proprio un buon terzino ragazzi non so se uscirò io do pure colman che magari me lo valutano magari me lo valutano qualcosina di più io anch'io sto io sto andando a trattare per un piccino ah riuscirei raga però ho paura che ok vai a me mi rimangono non so quanto pochi soldi mi rimangono è ma è ma no dimmi 174 mila e stipendi io neanche troppo è pochissimo non ho neanche un milione non ho neanche un milione manco uno neanche un milione no io ho 49 eh come che hai venduto ho venduto un giocatore che mi ha dato 3 è un 83 era un 83 per caso era un 83 centrocampista era un centrocampista aspetta ti faccio vedere aspetta che vado a vedere io il mio colpo l'ho fatto io sto per simulare tutto perché ok io ho rinnovato tutto ho tutta la difesa 80 io tutta la difesa sopra le 80 era un 50 era un 50 e quante guadagnate scusa 3 io ho tutta la squadra dagli 80 in su quindi raga 3 milioni io adesso simulare ma eh ma io vado a simulare tutto ok io intanto voglio vedere se riesco a fare questo colpo no perché eh io io mi preciso simulare vado con una squadra forte io te lo dico che non sto andando in una squadra abbastanza forte a fare il colpo infatti non me li trovo in questa squadra non è possibile vabbè o questa o niente ok ce l'ha ce l'hanno ce l'hanno vediamo allora andiamo a vedere comunque per me mi serve a me mi serve poi vediamo cosa è vediamo allora quanto costa ai non posso prenderlo allora se me lo prendo pure per il presto non va bene va bene va bene questo è squadra guarda guarda lui quello che costa di me io sono a settembre sto simulando dai io sopra giocare la coppa sopra giocare la coppa a settembre e forse contro l'arsenal l'ho preso invece no siamo passati siamo contro l'arsenal io sono contro l'arsenal e' ma dai veloce aspetta sto acquistando il mio ultimo giocatore e' veloce fai la delega fai la delega fai la delega per il contratto e' oramai sono attrattori vabbè ci impiego poco sono contro il manchester in partita campionato mi sa che le prendo per i pesanti vai carabao cap contro l'esper se non posso più non ci credo e' ma non ci credo sono passato contro l'arsenal alla carabao cap e' ho perso contro l'esper e' ho perso contro l'esper e' normale e' normale e' sono pronta e' ma' normale cosa che ho vinto contro l'arsenal e' ho perso contro l'esper in carabao cap non lo so c'è mi sembra un po' però dai lei capito ma adesso non vado più da carabao io basta ho finito di vivere non vado più da carabao basta finito di vivere non vado più da carabao cap e' ma dai che sono a dicembre ok me l'ha rifiutata va bene veloce simula per simulare sul calendario e' manda fino alla fine del campionato fino alla fine del campionato ah solo campionato manda fino alla fine vedo partite molto dure e' anch'io il mese di dicembre il mese di dicembre a liverpool city e tottenham vediamolo guarda non si può non posso fare tali se no avremmo una sola mia un po' e' vabbè scusate se si durerà tanto ditemi se lo volete però io ti percorso alcune volte non devo quando simulavano magari fate anche voi cosi non lo so io so per iniziare gennaio no io sono ottobre dicembre ok gennaio ora vediamo ho provato a fare la coppa non so che coppa forse sono passato con la carabau forse la carabau no e' la emilata va bene va bene aia io fra allora il 27 ottobre si gioca United dopo voglio vedere cosa succede a United ah ok io sono a novembre a dicembre a dicembre a dicembre a dicembre ascoltami a dicembre avrai solo big ti giuro solo big oh cavolo oh cavolo oe' io io non ho vinto neanche una coppa io non ho vinto neanche una coppa manco una perchè devo giocare la emilata scappa devo giocare la emilata scappa devo giocare la emilata scappa contro il tottenham almeno tu hai qualcosa eh ma ho perso la carabau io ho perso anche la carabau di sicuro ho perso pure contro il tottenham ma ma a dicembre sono contro il livre lo so te l'ho detto il tottenham non c'è eh io non ho vinto una ma... ah raga questo campion dobbiamo sperare che si vinta il campion bisogna sospere bisogna sospere bisogna sospere bisogna sospere bisogna sospere che vincano il campionato raga perchè sennò facciamo zero punti zero punti ma dicembre c'è solo big c'è giocato contro altri eh lo so c'è il tottenham e sono a febbraio quasi a no quasi a marzo io ora sospere ritorno contro il liverpool che ho appena fatto io sono già marzo io ho fatto ancora il liverpool e c'è crederò dopo e appunto aiuta adesso ho una paura io sono curiosa di ascoltare cosa stanno continuando e anch'io 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 e veramente c'è un posto e io so per finire perchè sono ad aprile eh no io invece sono a dicembre ancora ti sei fermata ti sei fermata ti sei fermata ero andata a trattare no non mi sono fermata eh dove sono e quel giocatore me l'ha rifiutata l'ultimo che non era forte non era forte come panchinaro come panchinaro di riserva voglio so per finire devo giocare tutti mi gusterò la partita ok raga io interrompo interrompo eh ma ho interrotto ah io sono a gennaio ho visto una coppa ok ho visto eh io non ho niente e credo sia la coppa io vedo se mi viene a comprare un altro è uscita la conferenza contro ok ok allora raga sono pronto sono pronto raga vediamo quanto ho fatto contro oh non dirne oh oh my god allora è andata bene già non ci credo va bene mi è andata oh mi è andata malissimo ah allora io vedo la conferenza ma Emma ma beh ma te stai simulando sì sono a febbraio ma dai ma ma vai sul calendario e simula ma Emma sto simulando ma io ho finito io ho finito solo sul calendario e simulare è la mia strada ok vai allora allora inizio a dirvi che ho comprato per spawn avrò pochissimi milioni ok ok eccomi ho comprato Bernardeschi che mi ha aumentato di due tot poi ho comprato lo scala e mi ha aumentato e mi ha aumentato come ho comprato il 2d di 2 tot ero ero e ho deciso da comprare ma non ho comprato ma alla fine non ho comprato nessuno dei due io ho comprato Rougani ho comprato Rougani in difesa quello lo puremo anche io e poi ho comprato Mounier l'ultimo colpo finale Mounier ok dimmi chi hai dimmi che hai comprato te allora io ho comprato musacchio capito poi ma solo quei due hai fatto hai speso tutto il budget per loro due allora conta che allora chi l'ho pagato 20 ma sbagliata pagano 20 milioni vale 5 mi vale tipo 5 10 vediamo sono a maggio ho finito aia aia quanto sei arrivato in campionato in in campionato undicesima eh ho fatto meglio io no 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 io ho ottavo anche io anche da me quanto punti avevi? eh 62 ah io 47 eh quanto hai di Elena? 60 no 73 io 63 allora io sto facendo 5 allora ok io vado a vedere se ho sbagliato e anche non avevo uno scuola io ho fatto lo stupido perchè mi sono dimenticato indovina un po' di ehm chiamare i giocatori da presto va bene dai allora voglio vedere eh dai eh non so tanti ho pochissimi giocatori in presto quei pochi che ho sono scarsissimi ehm anch'io eh vabbè allora adesso adesso te continua fino alla fine fai avanza manda sul calendario vai avanza te avrai sicuramente più budget di me ne avrai sicuramente di più perchè hai risparmiato tutti io ho fatto quattro acquispi ho consumato tutto il budget io vado ok io sono alla fine io sto andando comunque a venire al vento io so per finire la spagione forse io appena mi so per giugno no no continua continua ok aspetta ok mi hanno fatto salire di un po' eeeh piani per allenare la nazionale a me mi è uscito scusa eh che pare non sono più qualificati allora nazionali ok vai io sto per finire io sto andando la nuova di nuovo anno a te ti ha chiesto le nazionali eh sì ma quelle scarse a te a te cosa a roma mia e svezia a me gli stati amici a me roma mia e svezia a me me l'hanno appena ritirata a me e vabbè ah io sto andando avanti sono se è che c'è quella parte buggata anche io ma se sono scarsi non lo faccio se è che c'è quella ok ok mi sono adesso adesso non è vero ho perso ma io ho perso tutti i giocatori emma 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 ho perso tutti i giocatori ho perso i giocatori di farsi più forti dai non ci credo ok termina spagione ok ci vuole più ciao ci vuole più ciao ci vuole più ciao ragazzi che palle perchè adesso avrò pochissimo budget e seconda cosa ho perso Andrea Gomez per Baccellona perchè era in prestito si vede e ho perso un difensore Zuma ora provo a riprenderli in prestito anche te li perderai lo sai lo sai che anche te li perderai Giacchino mi ha chiesto se potevo andare in prestito con qualche altra squadra vabbè ma te simula ok allora ok vado a vedere un attimo i miei soldi non so ok ci vado a promosso alle azioni tutti dì ognuno io da quanto sono ricca farò un po' coltello di soldi con i piedi te lo dico che ok 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 mi sei buggato il gioco aspetta ok ragazzi il video è finito qua spero che vi sia piaciuto lasciate un like e un commento questo qua è il nostro budget spero che vi sia piaciuto un like e un commento iscrivetevi al canale per la campione quando faccio il video a tutti ragazzi ciao 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 ciao